Ecco il nostro polastrone, che è molto polastro, stiamo iniziando la grande avventura del signor Bonaventura. Siamo sulla pista che ci porta al Pins Boer. Noi non lo facciamo, lo facceremo più tardi il Pins Boer, adesso facciamo il polastro. Noi non lo facciamo, lo facciamo. 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 Noi non lo facciamo. Noi non lo facciamo, 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 lo facciamo. Grazie a tutti. 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 a tutti.